E' tornata a Foggia la statua cefala di Afrodite risalente al primo secolo dopo Cristo che nell'agosto del 2011 era stata rubata da un'aula dell'università degli studi di Foggia. L'importante reperto archeologico è stato recuperato dai carabinieri il comando per la tutela del patrimonio culturale. Le indagini erano partite nel 2013 quando una casa d'asta bavarese aveva messo in vendita un reperto che appariva di chiara origine italica. Il confronto con le foto della banca dati dei beni d'arte hanno permesso di identificare con esattezza l'oggetto come quello rubato dall'università foggiana. Un ritrovamento quello della statua di Afrodite del valore commerciale di circa 350.000 euro che è stato anche il punto di partenza per un'indagine che con la collaborazione della polizia tedesca ha permesso di identificare un intero traffico portando già nel 2016 all'arresto di diverse persone e al recupero di 2.500 reperti. Mancava appunto solo l'Afrodite che è stata restituita in seguito ad un'arrogatoria internazionale.